Il mio tradizionale ben trovato al pubblico di Talk Sicilia per questo nuovo appuntamento con i nostri approfondimenti di Blog Sicilia. Oggi è il nostro gradito ospite in studio l'europarlamentare Ignazio Corrao, che ringraziamo per essere qui. Grazie per essere venuto e aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Ignazio Corrao è europarlamentare, eletto la prima volta nel Movimento 5 Stelle, poi la seconda volta, circa tre anni fa, è passato al Gruppo dei Verdi, se non vado errato sono circa tre anni ormai, e ha continuato comunque nella sua nuova conformazione. Passatemi questo termine politica, quelle che erano le battaglie che erano iniziate invece nel Movimento 5 Stelle. Battaglie che comunque lo contraddistinguono, che in questi anni sono andate dall'agricoltura, dalla sostenibilità a tanto altro, ma noi oggi vogliamo cominciare da un tema che in questo momento specifico per la Sicilia e per i siciliani è particolarmente sensibile, che è quello del caro voli. Peraltro avvenendo in Sicilia proprio oggi, lo aspettavamo in trasmissione, è arrivato in leggermente ritardo non per colpa sua, ma perché ha avuto un'altra trafila difficile proprio con i voli. È vero che è veramente complesso tornare in Sicilia? Sì, sì, è complesso. Ed è complesso per chiunque, per qualsiasi siciliano che lavora fuori, o per chi vuole venire a visitare, chi si vuole regare qui perché magari ha intenzione di investirci, o perché vuole venirci a vivere, chi deve tornare a trovare la famiglia, i parenti. Ed è un problema perché non essendoci la capacità da parte delle istituzioni di fissare in qualche modo un prezzo politico, perlomeno per i residenti o per i siciliani, le compagnie in determinati periodi, facendo una sorta di cartello, rendono i prezzi inaccessibili alla gran parte della popolazione. perciò capire da chi ci segue, l'ultimo esempio che possiamo portare è quello del rientro dei siciliani che vogliono tornare a Pasqua, parliamo addirittura di 700 euro per un volo, che è una cosa assolutamente inaccettabile, perché parliamo di cifre che possono essere anche 6 o 7 volte superiori ai trasporti ordinari in aero per un'altra destinazione. Pensa che chi vorrebbe tornare insieme alla famiglia, dei biglietti ne dovrebbe fare 3, 4, 5, è ovvio, cioè stiamo parlando di prezzi che si avvicinano a quelli di un jet privato, praticamente. E allora, visto che... È una cosa completamente inaccettabile. E ripeto, se si capisce che il mercato da solo non è in grado di garantire o offrire un servizio necessario, in quel caso è necessario l'intervento delle istituzioni, siano queste nazionali o regionali. E ovviamente l'Unione Europea consente in determinate condizioni e per determinate particolarità l'intervento all'aiuto di Stato. E qua volevo concentrarmi, perché c'è un grande tema legato, che si lega a questo. Proprio di recente, l'anno scorso se non vado errato, in Costituzione in Italia è stato inserito il concetto dell'insularità, concetto di insularità che anche l'Europa ha riconosciuto proprio qualche mese prima, e nell'ambito di questo concetto di insularità, perché le isole d'Europa non sono soltanto la Sicilia e la Sardegna, ce ne sono diverse altre, che hanno anche problemi simili, analoghi, anche se non proprio uguali, in questo concetto di insularità sicuramente il migliorare il trasporto, il collegamento è un tema fondamentale. Allora, per l'emergenza, caro voli, oggi, visto che le istituzioni italiane non riescono in questa fase, l'Europa cosa può fare? Che competenze ha? Cove si può intervenire? Lo chiedo all'eurodeputato in questo momento. L'Europa generalmente garantisce il libero mercato sul territorio europeo. Ovviamente, in presenza di determinate condizioni di un certo tipo, come può essere quella dell'insularità, si danno delle deroghe. Allora, la Commissione europea ha già detto, ha già specificato più volte, perché la questione è stata sollevata, soprattutto alla Sardegna, nel caso italiano, ma anche nella Sicilia, la possibilità di utilizzare appunto questo principio di insularità su cui abbiamo lavorato, perché c'è un intergruppo in Parlamento europeo di cui io faccio parte, composto da eurodeputati che vengono dalle isole. Come ben dicevi, le isole non sono soltanto Sicilia e Sardegna, che sono la mia circoscrizione elettorale, le isole sono le isole azzorre, che sono molto lontane e appartengono al Portogallo, le isole Baleari, le isole Canarie, che sono anche loro belle abbastanza lontane, a largo praticamente del Marocco, della Mauritania. Questi sono tutti i posti in cui comunque il servizio per i cittadini deve essere in qualche modo garantito. Viene garantito attraverso l'intervento dello Stato, quindi intervento pubblico che mette del denaro per calmerare i prezzi o per garantire a determinate fasce di popolazione di poter viaggiare. Per noi siciliani non è come per gli abruzzesi o per i friulani. I friulani e gli abruzzesi, se l'aereo costa tanto, hanno l'opzione di prendere un treno, hanno l'opzione di prendere un autobus, una macchina. Cioè per noi è particolarmente complesso se lavori a Milano, a Torino, o a Bologna, a Verona, da Roma in su, all'interno del territorio nazionale, per non parlare di oltre. L'Europa quindi ha detto sì alle deroghe, ma un passo in più l'Europa può farlo o non è in condizione di farlo da un punto di vista legale? Non ha la competenza per farlo, non spetta all'Unione Europea decidere quali rotte e con quale intervento pubblico bisogna intervenire. È lo Stato di concerto con le regioni, quindi è una negoziazione tra la regione siciliana, nel nostro caso, e la regione Sardegna, nel caso della Sardegna, con il Ministero dei Trasporti e poi è il Ministero dei Trasporti, quindi lo Stato italiano, a presentare il piano di aiuto, il piano di interventi alla Commissione Europea che comunque ha già detto e specificato che non c'è un problema perché con il riconoscimento del principio di insularità è già scontato il fatto che è necessario garantire lo spostamento almeno ai residenti. Poi, se lo si fa per i cittadini che sono nati, perché poi queste sono le differenze che escono nei bandi, se si vogliono inserire i cittadini che sono nati in Sicilia ma risiedono fuori, se si vogliono inserire soltanto i cittadini residenti che quindi sono lavoratori temporaneamente o comunque studenti che temporaneamente vivono, vivono, studiano, lavorano fuori ma sono ancora residenti in Sicilia, queste sono scelte che fa la regione siciliana dal momento in cui si siede al tavolo per fare i bandi con il Ministero. Quindi diciamo chiaramente che l'Europa ha già aperto la strada, la corsia c'è, bisognerebbe percorrerla e questo speriamo che lo facciano al più presto, al di là delle chiacchiere, regione e Ministero. Quindi, visto che l'Europa non può intervenire in via diretta, parliamo un attimo di altro. Uno dei grandi temi di questi giorni è il fatto che l'Europa ha detto sì dal 2035 allo stop ai veicoli, a combustione interna, in buona sostanza, quelli che noi conosciamo come veicoli a benzina, a gasolio e così via dicendo. Però c'è un grande tema, l'Italia sarà in grado da qui al 2035 di non produrre più e soprattutto di non vendere più e non far usare più auto di questo tipo? Beh, qua i temi sul campo sono tanti in realtà. Uno è la negoziazione appena conclusa che ha visto comunque una sconfitta del governo italiano sul tema del biocarburanti, perché comunque il governo italiano aveva chiesto di inserire biocarburanti tra le modalità utilizzabili per i veicoli di nuova immatricolazione al 2035 e questa richiesta è stata respinta nella negoziazione al Consiglio e con la Commissione, mentre gli e-fuel, quindi questi provenienti da appunto processi di sintesi che era la posizione tedesca, sono stati accolti. Quindi comunque secondo me ancora qualcosa sul tavolo rimarrà da discutere. Non è ancora chiusa la vicenda. Chiusa al 100% per via di questa falla che si è aperta, secondo me non è. Resta fermo il fatto che dal 2035 i veicoli a combustione, quindi a diesel e a benzina, non potranno essere più immatricolati, ma non significa che non potranno più circolare. Cioè è un processo. Cioè noi cerchiamo di capire qual è la questione, è che dobbiamo cercare di azzerare per il 2050. Cioè noi dobbiamo lavorare per ridurre al massimo, per azzerare le emissioni quanto prima possibile. Faccio una breve sintesi per chi ci ascolta. Il fatto quindi è questo, il 2035 non è il momento in cui se avete la macchina a diesel o a benzina non potrete più usarla e non è nemmeno il momento in cui non potrete più comprarne una usata, potrete continuare a farlo, non potrete più immatricolarne una nuova a combustione interna. Questa è la differenza. Dopodiché bisognerà aspettare per vedere che circolare è solo macchina di altra natura, bisognerà aspettare che tutte quelle circolanti smettano di circolare. Cioè la cosa è rivolta alle case automobilistiche, ai produttori di auto, con delle deroghe, perché per esempio la Ferrari è in deroga perché sotto una certa soglia di produzione di modelli deroga alla normativa. È ovvio che ad esempio le auto d'epoca potranno continuare a circolare perché sono state immatricolate, sono state immatricolate prima. Il punto è il 2035 per non immatricolarne più di nuove, significa che ne continueranno a circolare sicuramente tantissime per un tot ancora di anni. È un tempo congruo, la scommessa è questa, è un tempo congruo per colmare i problemi che ci sono oggi, perché oggi i problemi sono giganti e l'Italia è uno dei paesi che ha più problemi di tutti. Colonnine che mancano, quindi il problema che se uno ha un'auto elettrica ha difficoltà a trovare lungo il percorso ovunque le colonnine di ricarica, la durata della ricarica, la durata della batteria, il costo dell'auto elettrica, perché in questo momento ancora è antieconomico. Io sono convinto che chi ci ascolta magari ha in testa di comprare una nuova auto e dice se costa più o meno lo stesso preferisco comprarmi l'auto elettrica perché magari ho il pannello solare nella casa in campagna o vivo in una villetta in cui ci sono i pannelli su, mi posso ricaricare la notte e alla fine allungo andare un risparmio importante sul carburante ma in questo momento ci sono problemi di tecnologia e problemi di prezzo problemi che attraverso il mercato si dovrebbero colmare negli anni. Questo è sostanzialmente il provvedimento e questa è la scommessa che si sta facendo. Un altro grande tema quando si parla di Europa è che spesso ha allontanato il cittadino siciliano almeno ma in generale l'italiano dall'Europa e sono i vincoli che vengono posti alle produzioni agricole i limiti e soprattutto le valutazioni che vengono fatte faccio un esempio su tutti il tentativo di mettere quasi dico proprio ma quasi al bando il vino perché è cancerogeno che è stato qualche tempo fa è proprio la questione delle produzioni agricole e del riconoscimento dell'importanza dei prodotti locali è uno dei grandi temi. Sì è un tema che accanto alle politiche europee bisogna guardare bene nel mercato globale perché alla fine quando si parla di regole europee si parla di trattati di libero scambio perché quello che fa l'Unione Europea sostanzialmente è aprire i mercati e oltre che lavorare su uno spazio unico perché la grande diciamo la grande materia di competenza europea è quella della regolamentazione del mercato unico che è la grande cosa dell'Unione Europea ma come questo mercato unico si interfaccia con gli altri mercati soprattutto quelli dei paesi in via di sviluppo dove le condizioni di produzione e i costi di produzione non sono gli stessi che di quelli che hanno i produttori in Unione Europea e questo porta a due tipo di problemi o due tipo di situazioni una che è tendenzialmente vantaggiosa e una che è profondamente svantaggiosa quella vantaggiosa è ovviamente sul tema delle esportazioni noi sul tema delle esportazioni abbiamo dati che sono sistematicamente crescenti cioè chi è riuscito a capire il gioco mettiamola mettiamola così quello che era la dinamica di mercato che era stata costruita e quindi ha utilizzato i soldi della PAC i fondi i vari fondi che sono stati previsti ed elargiti nel corso degli anni è riuscito ad aumentare in maniera veramente importante il volume delle proprie vendite e quindi anche il volume dei propri affari chi invece è rimasto diciamo immobile sul modello che era antecedente quindi su quello della piccola produzione sta subendo quello che è l'effetto del ritorno perché ovviamente per un grande volume di esportazione c'è un grande volume di importazione di prodotti che entrano in competizione con quelle che sono le piccole produzioni locali questo diciamo è il prezzo a pagare quindi questa situazione qui se non è accompagnata da clausole di salvaguardia ben definite soprattutto a tutela del piccolo rispetto a quello che è la dinamica del grande produttore o della grande distribuzione comporta un accentramento della ricchezza sempre più diciamo concentrata in poche mani molto ricche è un grande impoverimento di quello che era tutto il grande tessuto dei piccoli produttori in cui la nostra regione è basata esatto rischia di essere dunque un'Europa dei più ricchi e dei più forti quindi un'Europa attrazionale tedesca ma questo è lo schema del capitalismo cioè il capitalismo è basato su questo cioè il capitalismo è basato su la libertà la libertà le nazioni gli stati non dovrebbero essere quelli che mettono equilibrio rispetto a queste cose assolutamente sì però il problema è che i grandi sforzi che sono stati fatti dal punto di vista pubblico sono stati fatti per andare in quella direzione là la direzione della competizione globale quindi chi non ha gli spagnoli per fare un esempio che provengono comunque da una cultura simile rispetto a quella nostra quindi di piccole produzioni hanno captato in maniera tra virgolette migliore quella che era la direzione politica in cui si andava e hanno diciamo sono passati da un sistema di piccoli di tanti piccoli di tanti piccoli produttori in un sistema di aggregazioni molto grosse che occupano fette di mercato importanti cioè questo è quello che diciamo chiedeva la direzione il fatto che non sia stata ben definita e quindi non sia stata ben colta da tutti soprattutto in Sicilia e nelle regioni del sud Italia è una grande responsabilità della politica perché è chiaro che se si accoglie un determinato modello economico devi andare a spiegare e devi portare la tua economia in quella direzione lì altrimenti il rischio di trovarti in una situazione di scompenso quindi la scelta da fare obbligata è quella dei consorsi poi che siano consorsi che siano cooperative che siano aziende private di raggruppamento ci sono ci sono diverse formule alcune funzionano in Sicilia non è ci sono delle realtà che come dicevo prima hanno stanno facendo molto bene hanno capito la direzione e sono andate nella giusta direzione tutta invece un'altra grande parte che evidentemente non è stata accompagnata in quel tipo di processo sta pagando quali sono le conseguenze e non possiamo lasciarle lì perché comunque è il patrimonio è il patrimonio culturale ma anche economico della nostra terra e cosa si può fare allora cosa può fare siamo sempre lì cosa può fare l'Europa per venire incontro a queste realtà e recuperarle alla produttività clausole di salvaguardia sono tutte cose che comunque ripeto l'Unione Europea fa regole generali le questioni particolari sono negoziate dai rappresentanti dei vari territori quindi nel caso nostro la regione siciliana è lo Stato italiano però è chiaro che bisogna chiedere quindi da parte delle istituzioni preposte delle deroghe delle clausole di salvaguardia degli elementi che consentono appunto di garantire chi in questo momento sta pagando le conseguenze di questa transizione quando si parla di Europa in Sicilia necessariamente si parla anche di fondi europei e del fatto che troppo spesso questi fondi europei non vengano utilizzati o quando sono utilizzati non lo siano nella maniera migliore probabilmente ma oggi al fianco di questo si parla anche di PNRR perché poi le regole del PNRR forse ancora più stringenti ma sono quelle stesse regole dei fondi comunitari sì 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 ma il PNRR diciamo può essere considerato in senso lato un grande fondio cioè segue la stessa logica dei fondi di coesione comunque dei fondi quelli che vengono definiti fondi europei in generale e lì infatti abbiamo ed è uno dei grandi dibattiti di questo periodo un grosso problema di programmazione non soltanto a livello siciliano ma a livello nazionale ricordiamoci che quando questi fondi sono stati previsti quando sono stati programmati e captati in una quota importante perché l'Italia è il principale beneficiario di questo meccanismo di questa novità europea uno degli obiettivi più importanti era quello di colmare le diseguaglianze quindi quelle che sono quelle che sono le differenze territoriali questo cosa vuol dire che obiettivo che si chiama obiettivo convergenza proprio per questo ma un obiettivo che è stato percepito e raccolto da Spagna persino più di recente dalla Polonia per dire un esempio anche il PNRR doveva andare in quella direzione lì quindi prevedendo una quota di investimenti maggiori per i territori che comunque sono in una condizione sono in una condizione di ritardo di sviluppo strutturale rispetto ad altri territori ora noi abbiamo un doppio problema uno che la programmazione per questo fine è stata fatta male o non è stata fatta proprio e il secondo è che per il tipo di programmazione che è stata fatta mancano i progetti e le persone che sono le persone gli enti le istituzioni capaci in grado di dare seguito a tutto a tutto quello che è il processo di programmazione spesa e rendicontazione questo ci mette in una condizione di non essere certi di riuscire a rispettare quelle che sono le scadenze perché parliamo comunque di tanti miliardi da spendere entro tre anni molto velocemente quindi comunque con delle scadenze molto serrate e con quello che era un problema molto risalente perché io dal primo giorno ho messo i piedi in Parlamento Europeo nel 2014 ho sempre detto a qualsiasi assessore ministro di turno che si occupava comunque di programmazione e di affari regionali e via dicendo che bisognava velocemente correre per creare la struttura burocratica amministrativa capace a fare programmazione questa cosa non è stata mai fatta continuano oggi tutti a dire se intervisti un qualsiasi sindaco ti dirà non ho il personale adatto non abbiamo le strutture anche la regione la regione siciliana cioè che parliamo di una regione della regione più grande e una delle più popolose d'Italia nonché di un'importanza storica pazzesca cioè di quelli che dovrebbero rappresentare quelli che dovrebbero rappresentare la grande la grande Sicilia non ti posso venire a dire che non abbiamo il personale perché sono decenni che va formato il personale capace a fare la programmazione quindi questo ovviamente ognuno dirà che colpa è quello di prima che non l'ha fatto però a un certo punto bisogna mettere un punto e risolvere la questione altrimenti l'opportunità che abbiamo che non torneranno sempre rischiamo di perderle abbiamo gli ultimi due minuti o poco più e affrontiamo un tema che da deputato ambientalista ma da persona che è completamente cosciente delle difficoltà di collegamento della Sicilia la domanda principe in questi giorni diventa il ponte sullo stretto allora io ho letto un articolo che forse era del 1865 era il periodo immediatamente successivo all'unità d'Italia e qualcuno per conto del neonato regno d'Italia diceva che il ponte sullo stretto di Messina era un'opera strategica da realizzare quanto prima possibile credo che siano passati 170 anni o giù di lì 160 il ponte il ponte il ponte è una storia che torna e ritorna sempre ogni 5 10 anni ogni anche se teoricamente nel corridoio famoso Palermo Berlino adesso addirittura oltre potrebbe essere ricompresa ci sono una serie di problemi un problema è ingegneristico tecnico ricordiamo a tutti a tutti quelli che minimizzano perché molti dicono vabbè ma non ci sono ponti ovunque nel mondo ecco chiariamo questa cosa non esiste nessun ponte nel mondo che ha una campata unica di 3 chilometri e mezzo e questo è un tema è un tema un grande dubbio di natura ingegneristica perché non sono unanimi i giudizi sul fatto che sia così realizzabile così facilmente realizzabile o meno a prescindere dal costo e dall'impatto poi c'è ovviamente il tema della sismicità della zona ricordiamoci che Messina è stata spazzata via da un terremoto maremoto e neanche troppi anni fa il tempo sta finendo velocemente se non il ponte cosa no prima chiudiamo tutta io dico non sono contrario io prescindere dal ponte però dico facciamo in modo che da Palermo a Messina ci arrivi in un'ora e da Villa San Giovanni a Napoli ci arrivi in un'altra ora o in un'ora e mezza e quando il problema diventano quei 3 chilometri e mezzo è l'ultimo dei problemi il problema è che tu rischi di fare un ponte in cui risparmi 20 minuti su un viaggio che comunque ti dura 10 ore e quindi non è conveniente grazie a Ignazio Corrao e a un deputato verde che ci è venuto a trovare grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questo appuntamento vi rinnovo per l'appuntamento appunto per il prossimo Talk Sicilia arrivederci